Ho classificato tutti gli album di Ye, dal migliore al peggiore, e giuro di non essere mai stato così tanto in difficoltà. Ciao a tutti ragazzi, qui a Before the Couch, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di Ye e in modo particolare della sua discografia. Io la butto lì. Per me è la più solida di sempre, almeno per quanto riguarda il rap americano. Sono tanti i progetti che ha rilasciato in questi anni, per la precisione ne ho selezionati i 15 tra album studio, mixtape, joint album e cose del genere, e cerchiamo di fare una classifica che, così come è stato con il video di Travis, è fatta molto in base ai miei gusti. Io direi di partire subito perché c'è davvero tanto da dire, però prima di farlo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, attivate la campanellina, scrivetemi nei commenti già la vostra top 10, top 5, qual è secondo voi il miglior progetto di Ye. Allora, senza che li dico nome per nome, adesso apparirà una grafica dove potrete vedere tutti i progetti che ho selezionato e come vi ho già detto non credo di aver tralasciato nulla, almeno penso, poi probabilmente qualcuno uscirà. Partiamo con il quindicesimo posto, che io ho dato a Vultures 2, che è un progetto, l'ultimo che ha rilasciato insieme a Tadol e Sine. Ragazzi, non mi è piaciuto per niente, c'è qualche canzone carina come Field Trip, 530 e qualcun'altra, non me ne vengono granché, però è un progetto di una mediocrità spaventuosa, soprattutto se consideriamo che parliamo di Ye. Comunque, Maya del Crotonè, perché non ce ne fotte un cazzo e facciamo calcio, anzi noi facciamo calcio. No, comunque, sono andato a correre, sto registrando il video così. Vabbè, quattordicesimo posto, ci ho messo il primo capitolo, quindi Vultures 1, un progetto sicuramente più convincente del secondo, dove le chicche c'erano, mi viene in mente ovviamente Carnival, Faxam e qualcun'altra. In generale però, per quanto mi sia piaciuto, ragazzi, Ye ha fatto molto meglio e purtroppo lo metto quattordicesimo. Tredicesimo posto, Ye, un album che a me è piaciuto, probabilmente meritava qualcosa in più, però ripeto, il discorso è sempre lo stesso, se lo confrontiamo con gli altri non è un progetto così solido. Bello ma breve, quindi ho deciso di metterlo a questa posizione perché comunque, sette tracce, sì, carine, però si può far di meglio. Dodicesimo posto, ci tengo particolarmente perché ho messo Jesus is King, che secondo me, ragazzi, è un album un sacco underrated. Proprio in questi giorni lo stavo un po' riascoltando e secondo me spacca, anzi, vi dico una cosa, fatevi un favore e riascoltatelo, perché secondo me molti di voi potrebbero rivalutarlo, perché poi essenzialmente questo album, mi ricordo, quando è uscito fu abbastanza iterato, perché Ye è impazzito, ha fatto un album cristiano e sti cazzi, però a parte, diciamo, il discorso della religione su cui certo è basato, a livello di sound spacca, c'è un sacco di chicche molto simpatiche, Use This Gospel, Close On Sunday, Follow God, veramente bello, cioè secondo me questo progetto sulle vostre liste potrebbe essere l'ultimo, ma in realtà è bello, vabbè, niente, io ce l'ho a cuore. Poi non so voi che cazzo ne pensiate. Undicesimo posto, Kid C. Ghost, il joint album, anche se, anche in questo caso sono sette tracce, però in collaborazione con Kid Cudi. È vero che anche in questo caso sono sette canzoni, ma ho deciso di premiarlo perché lui, insieme a Kid Cudi, secondo me formano un duo micidiale, e queste canzoni sono tutte molto simpatiche. Comunque, come state vedendo, sì, sto parlando dei progetti, ma non posso intrattenermi troppo, perché soprattutto più avanti avremo tanto, tanto, tanto da dire. Decimo posto, e secondo me qua già qualcuno avrà qualcosa da ridire, è Wash The Throne, il joint album con Jay-Z, che da molti è etichettato come il joint album più bello di sempre, ma secondo me non è così. Ovviamente non intendo dire che sia un brutto progetto, ma secondo me c'ha qualche hit, e le hit che ha, cioè sono hard, sono veramente hit con la H maiuscola, però, boh, per il resto non è che mi abbia fatto impazzire. Non ho posto, io lo do a Donda, che è un progetto che a me è piaciuto davvero tanto, probabilmente, lo dico, lo dico, l'ultimo, l'ultimo vero bell'album di Ye. Cioè, secondo me, Donda è l'ultimo progetto convincente di Ye, anche seppur in quel caso un sacco criticato, troppe canzoni, troppi feat, però, raga, per me spacca, cioè ha delle tracce anche in questo caso allucinanti, e ripeto, tra le sue ultime uscite è quello che ad oggi, pensandoci, mi convince di più. Che poi, tra l'altro, è uscito nel 2021, Donda, album dedicato alla madre, tra l'altro una figura importantissima per Ye. All'ottavo posto facciamo un piccolo salto nel passato, perché ho deciso di mettere Cruel Summer, che comunque non è proprio un album di Ye, o quantomeno è un album di tutta la good music, quella ovviamente dei tempi, e anche in questo caso ci sono tracce clamorose. E tra l'altro, sempre ricollegandoci al video di Travis, qui c'è il primo featuring, o comunque la prima grande occasione data a Travis, perché è nel brano Sin City, e comunque parliamo del 2012, lui ai tempi, veramente, forse era una delle prime canzoni che pubblicava, delle prime apparizioni, quindi quanta cazzo di strada ha fatto. Bene, ora tutto sommato ce la siamo giostrati, magari qualcuno su qualche posizione avrà da ridire, però è andato tutto bene. Ora rimangono sette album che secondo me, per certi versi, tutti potrebbero essere il miglior album di Ye. Dipende da cosa cerchi, da cosa vuoi ascoltare, dal tuo gusto personale, ma parliamo di sette progetti veramente clamorosi. Ve li elenco, giusto per fare un po' di chiarezza. Graduation, The College Dropout, 808s and Heartbreaks, Late Registration, The Life of Pablo, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, e Yeezus. Il settimo posto lo do a Yeezus. Lo so che qualcuno mi lincerà, però parliamo di questo progetto perché è davvero clamoroso. Un album che, mi sento di dire, sì, ha rivoluzionato il sound di pop, con tutti questi suoni elettronici, distopici, non li saprei nemmeno descrivere metallici. È un album clamoroso che, quando uscì ai tempi, se non ricordo male, 2013, fece parlare tantissimo di sé, perché per quegli anni era qualcosa veramente di rivoluzionario. Tuttavia, ho dovuto metterlo settimo, perché i progetti che ho messo davanti mi sono un po' più rimasti nel cuore. E, ripeto, questa classifica è comunque fatta in base ai miei gusti, a quello che ho ascoltato di più negli anni e che più mi è rimasto. Sesto posto io lo do a The Life of Pablo. E anche in questo caso, un po' mi dispiace, però è difficile, ragazzi. E dì, sono provato, cioè, sono provato a fare sta cazzo di classifica. Comunque, secondo me, io ho sempre avuto questa teoria. Ora, ve la dico, non so quanti di voi saranno d'accordo. Per me, The Life of Pablo, tra tutti gli album di Ye, è quello che più si avvicina, per certi versi, al soundtrack. Anche noi, Fitun, in Tidal Assign, Ian Thug, ho sempre avuto questa sensazione. Comunque, ragazzi, che dire? Father Scratch My Hands, Famous. Qui credo che ci sia la successione di tracce più clamorosa della storia. Sentite qua, Waves, FML, Real Friends, Wolves. Cioè, quattro tracce clamorose. In generale, però, tutto l'album è bello, perché poi basta andare un po' più giù e c'è No More Parties in L.A. con Kendrick Lamar. Questo è un altro album che io, personalmente, ho consumato. Quinto posto. E anche qua mi lincerete. Cioè, non è facile, ok? Cioè, fai una top nei commenti, vediamo come la fai tu. Se sei più bravo tu, falla tu. Cioè, io la sto facendo, sto cercando di essere il più corretto possibile, però il quinto posto lo devo dare a Late Registration. Perché è un album clamoroso, ma è inutile ormai che lo dico, perché comunque siamo entrati proprio nell'Olimpo dell'hip hop americano e soprattutto di 10. Cioè, quest'artista è clamoroso. Ma ci prendiamo un attimo per osservare? Cioè, io, mo mi sono segnato qui, sto vedendo sul telefono i nomi degli album, ma c'è quanti cazzo di capolavori ha fatto? Perché anche Late Registration è il suo secondo album studio, ma che cazzo di album clamoroso? Allora, se posso dire una cosa, consideriamo una trilogy, The College Dropout, Late Registration e Graduation, diciamo che tra i tre è quello che comunque tendo ad ascoltare di meno. Cioè, quando ho bisogno di quelle vibes, di quello che ai tempi era Kanye West e non gli è, cioè, o vado su The College Dropout o vado su Graduation, lui un po' l'ho trascurato, ma anche in questo caso parliamo di un album fenomenale, e penso che ogni vero fan di Kanye lo ami. Quarto posto, incredibile, AO8 and Heartbreaks, un album bellissimo. Ripeto, devo smettere di dirlo perché ormai mi sto diventando troppo ripetitivo. Come ho detto prima, potenzialmente potrebbe anche essere il suo migliore, perché io credo che se vuoi piangere, se hai bisogno di stare male, se hai bisogno di, non lo so, pensare alla vita, cioè, real shit, questo album è clamoroso, cioè, proprio ti metti in un mood coldest winter, See you in my nightmares, bad news, guardate, 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 ho la pelle d'oca, non so se si vede, falla vedere, falla vedere, regia, guardate, ho la pelle d'oca. Anche in questo caso parliamo di un progetto game changer. Allora, io mo' vi dico questa cosa, vediamo se siete d'accordo con me, ci stavo pensando adesso. Per certi versi, questo progetto potrebbe essere considerato il primo album che in un certo senso ha aperto all'emo le porte dell'hip hop. Cioè, per certi versi può essere considerato il primo progetto non emotrap, ma emo nell'hip hop. Non so se avete capito il mio discorso, perché secondo me stiamo lì. Pensateci, datevi un po' di tempo e scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Top 3, signori, top 3. Top 3 e qua son cazzi e mi sto cacando sotto. Di nuovo, piccolo briefing. Sono rimasti The College Dropout, My Beautiful Dark Twisted Fantasy e Graduation. No, terzo posto lo do a My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Mi vincerete così come mi avete bestemmiato per tutto il video probabilmente. Allora, da molti è ritenuto probabilmente il progetto hip hop più bello di sempre. Perché sono dieci tracce, dieci... Madonna, dieci missili. Cioè, ma non missili perché sono banger, perché sono hit, ma perché sono dieci tracce clamorose. Cioè, il livello di testi, di liriche di questo album, secondo me... Lo dico? È il punto più alto di IE. Non so se siete d'accordo anche su questo, ma secondo me questo album, a livello proprio di testi, è scritto veramente, veramente bene. Perché terzo posto? Perché so stronzo? No, perché i due progetti che sono rimasti mi sono rimasti più nel cuore. Quindi io gli do un terzo posto perché forse l'unica vera pecca di questo album è che è un po' pesantuccio. Non lo so. A me sembra un po' pesantuccio. Secondo posto... E qua... So cazzi. The College Dropout. The College Dropout perché... Allora, il primo album di IE, di Kanye West, perché ai tempi era Kanye West, lasciatemelo dire. Bellissimo. Uno dei miei album preferiti di sempre. Tracce clamorose. Tutte hit. Tutte hit. Tutte hit. La cosa interessante di questo album è che ai tempi si vede anche nel documentario su Netflix. Cioè, lui lo suonava alle persone. Le persone non lo cacavano. E ad oggi, mi sa che in America è ancora il suo album più venduto. Dopo vent'anni continua a essere il suo album più venduto. Il discorso è che ai tempi il rap era crudo, era rap di strada, era gangsta rap. E lui, con queste cose mezze poppeggianti, non convinceva. Non convinceva nessuno. Però, vedete, lui ci ha sempre creduto. Ed è per questo che tutti, in quello che fa... Piccolo discorso motivazionale a caso. Dovete cazzo credere in quello che fate. Sempre. Perché, vedi, tutti gli dicevano... Guarda, sta roba non funziona. Sta roba non può andare. Fa schifo. Col cazzo. Lui adesso è il rapper più forte di sempre. Per me, no, vabbè, dai, non voglio aprire topic di cui poi mi bestemmerete nei commenti. Però io la penso così. Vabbè, secondo posto perché? Ora arriviamo e parliamo anche del primo posto che è Graduation. Dai, un applauso a Graduation. Allora, perché ho premato Graduation? Ripeto, sempre discorso Trilogy. Se noi consideriamo The College Dropout, Late Registration e Graduation, una Trilogy, in Graduation proprio Kanye spicca il volo. Va, va via. Va via e non torna più. Graduation è clamoroso. Allora, non so dirvi, non vi so dire perché Graduation sì e The College Dropout no, ma perché come ho detto prima, soprattutto questa top 3 è clamorosa, tutti e tre. Cioè, è impossibile scegliere. Io, ovviamente, mi sto basando sul mio gusto personale. In Graduation ci vedo qualcosa in più rispetto a The College Dropout. Però la verità è che poi ci sono giorni in cui magari mi ascolto The College Dropout e dico no, è questo il disco più bello di sempre. Di yeah. Queste sono state le mie scelte. Ripeto, non so su quante voi siate d'accordo. Non so se la classifica voi l'avreste fatta in tutt'altro modo. Non so se siete d'accordo sull'album che ho deciso di premiare. Motivo per cui, scrivetemi nei commenti la vostra classifica fatta in base ai vostri gusti. Io, come ho detto sempre, io vi rispetto. Cioè, anche quando mi dite, guarda, sei un coglione, hai detto una cazzata, un po' mi dispiace perché penso, guarda, alla fine la musica è soggettiva. Cioè, io la penso così, tu la pensi in tutto un altro modo. Bella per te. Cioè, non c'è chi ha ragione e chi ha torto, capito? E questo secondo me è il bello della musica rispetto magari ad altre cose. Che è tutto soggettivo. Quello che è merda per me può essere oro per te. Quello che è oro per te per me è una merda clamorosa. E con questa frase filosofica vi lascio. Scrivetemi nei commenti la vostra lista, lasciate un mi piace, condividete il video se vi è piaciuto. Scrivetemi nei commenti questo format con chi vorreste rivederlo proposto. Già qualche nome l'ho visto e vi ascolterò. Ci vediamo ad un prossimo video, vi voglio bene. Ciao.